Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Non so perchè parlo così, non prendetemi per bimomiche, quindi smetto di parlare così Siamo in questo nuovo episodio, come vedete non siamo in un adventure map Però siamo in una survival map Cioè in survival map E sarebbe figo Le proporrò più avanti Comunque, nella mia serie survival che non vi ho mai citato E non ho mai fatto con voi, perchè la giocavo da solo Però ho fatto poco E come vedete è un po' strana perchè ci sono le guardie Cioè è un po' affollato, non è l'online Benché, che cazzo sto dicendo? Perchè inizio a parlare così come un letterario, non riesco a finire le frasi Comunque Ma, 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 ma Ci sono delle mod in questa serie È una serie moddata E quindi ragazzi Volevo proporvi questa serie Oggi farò il video corto solo perchè vi dovrò fare la spiegazione di cosa vorrò fare più avanti In questa serie ci sono La mod della crafting guide E la mod della macchina Che cazzo ci fa questa guardia qua? Però voglio che si stia qua Ecco, guardiano del mio garage Eh, sì, ho fatto il garage E poi, altre mod, non mi ricordo Ah sì, la forniture Che mette sedia e tutte quelle robe lì Solo che ho avuto qualche problema Quindi, sì, non si vedono Vedete? Non si vedono, però c'è Quindi cerco di risolvere questo problema Che mi dà un bel po' di fastidio Il forno 3D Questo qui proprio mi piaceva un casino Quindi l'ho messa così proprio Non so, mi piaceva molto E... Boh Da quanto avete visto questi coccoli a spada Non mi vogliono ammazzare Ma benché mi vogliono... Ah, ancora questo manca Vogliono proteggere il villaggio Dove io abito E dove abitano tutti Un po' hanno messo la... La... Intelligenza artificiale, ragazzi È una cosa stupenda Io amo queste mod E... Perché, guardate il bastardo là Perché lo fanno sembrare più realistico, no? È come dire di no? Dio santo E allora Nella crafting guide E... Praticamente Verranno Ci insegnerà un po' Come costruire le cose Perché io non so bene Come costruire tutto E quindi sì Sono un po' in difficoltà Senza la crafting guide E... Tranne come costruire l'auto Che non so perché La guida non è completa Quindi l'ho dovuta mettere con la... E... Con la game mod Comunque ragazzi Carbone ne ho già abbastanza Il carbone serve per alimentare la macchina E... Bene Ho già spiegato abbastanza E... Ho detto che questo video Non lo facevo molto lungo E... Bene Non c'è nessuno N... Merda Stavo dicendo Non c'è nessuno Nelle vicinanze Per questa musica Ma che cazzo fanno le guardie Non fanno niente Uh... Perché droppano ferro? Che cazzo? Perché mi è droppato ferro? Ah sì Un'altra particolarità di questa mod Che... Aggiunge tipo la fisica Agli oggetti Quando li lanciamo Vedete? È... A forma di cubo È tipo saltella Tutte quelle robe lì Quindi... Buon sì Sono cose un po' stupide Però... Che sarebbero fondamentali Da mettere in Minecraft Non questo qui no Ho scaricato una versione Un po' tarocca però E... Bene ragazzi Nel prossimo episodio E... Anzi Oggi Volevo fare il video presentazione Perché mi hanno consigliato di farlo Però non l'ho potuto fare Perché... E... C'è avuto un po' di problemi Infatti vedete Non so neanche con la webcam La metterò infatti Nei prossimi video Via andando E... Comunque Lo farò a corto infatti Perché uscirà anche Il prossimo episodio E... Cioè la presentazione Che non l'ho ancora fatta Per il canale E... Ragazzi Bene Questo qui era solo per trattarvi Di cosa uscirà In prossimo Più avanti E... Ragazzi Perché sono tutti fermi? Qua per sbaglio Li avrò fermati tutti? No Che cazzo? E... Ah si come vedete In alto sinistra C'è anche la mod Delle statistiche Ma quello lì E un po' Ce l'hanno un po' tutti E... Bene ragazzi Ci vediamo al prossimo video E... Spero che questa serie vi piaccia Consigliatemi i mod E... Bene ragazzi Per oggi è tutto Scusatemi Se era accorto Però è stato Bello sempre Lo stesso Ciao ragazzi